Mario Odone, chi è costui? È un consigliere comunale di Taranto eletto nel Movimento 5 Stelle. Devo dire che, stando alle dichiarazioni che ha fatto subito dopo il Consiglio Comunale relativo alla mozione di sfiducia al Sindaco, che non si è potuto tenere per la mancanza del numero legale, visto che la maggioranza di Melucci ha in toto disertato l'Aula, ha fatto delle riflessioni che fanno emergere una ipocrisia politica, una falsità politica di Mario Odone e quindi anche del suo movimento, il Movimento 5 Stelle. Io e Massimo Battista siamo stati promotori di una raccolta di firme per poter presentare la mozione di sfiducia al Sindaco. Abbiamo raccolto 13 firme. Tra queste 13 firme non c'è quella di Mario Odone. quindi già vi fa capire che evidentemente Mario Odone non voleva e non vuole mandare a casa Melucci, altrimenti avrebbe apposto la sua firma. Poi è anche corsa voce che Mario Odone avrebbe magari votato quella mozione di sfiducia. Ma cosa grave? Proprio all'indomani, poche ore dopo il mancato, il non tenutosi Consiglio Comunale, dice voglio proprio vedere se coloro i quali hanno raccolto e presentato queste 13 firme volevano e vogliono effettivamente mandare a casa Melucci o se no, altrimenti il loro è un blef. Mario Odone, politicamente nulla contro la tua persona, sei una persona per bene, un bravo professionista, nulla da dire, ma come politico sei falso, falso, falso e bugiardo, come una moneta taroccata. Perché tu non puoi dire i 13 consiglieri post forse, forse il loro può essere un blef, quando il vero blef sei tu, se tu veramente volevi mandare a casa Melucci, intanto firmavi, eri uno dei firmatari di quella mozione per sfiduciare Melucci, invece non l'hai fatto, non solo non hai firmato, quindi tu risulti uno che non vuole sfiduciare Melucci, ma ti permetti pure di fare insinuazioni sui consiglieri, sui 13 consiglieri che hanno sottoscritto la mozione. Per cui, caro Mario Odone, non fare doppi giochi come è falso politicamente il tuo movimento, che da un lato attacca Rinaldo Melucci, dall'altro in provincia sta pappa e ciccia con Rinaldo Melucci. Perché Melucci è il presidente della provincia e il vicepresidente della provincia chi è? Un certo Parise, Parise che è il sindaco di Ginusa, eletto per due volte, è alla seconda consigliatura nel Movimento 5 Stelle. A che gioco stai giocando Mario Odone? A che gioco state giocando signori del Movimento 5 Stelle? A che gioco stai giocando tu Mario Turco, il senatore Mario Turco, leader massimo del Movimento 5 Stelle e aspirante, designato candidato sindaco del centro-sinistra. Per cui Mario Odone, quando parli, almeno parlo per me, parlo per Massimo Battista, ma posso parlare per chi ha firmato quella mozione di sfiducia? Tu non puoi fare insinuazioni. Pensa piuttosto a te, che giochi su due tavoli o più tavoli. Volevi mandare a casa Melucci? Vuoi mandare Melucci a casa? E perché non hai firmato la mozione? Ti piace essere equivoco? No! E ora avanzi anche sospetti di equivocità su chi, in maniera puntuale, trasparente, ha firmato quella mozione. Perciò Mario Odone, prima di parlare, per favore, fatti un bel esame di coscienza politico. Caro Mario Odone, come si suol dire a Napoli, a ca' nessuno è fesso, qui nessuno è fesso, qui nessuno è stupido, è la persona che forse è un doppio giochista, sei proprio tu. Sappilo bene, tu e il tuo Movimento 5 Stelle, il più grande inganno che la politica abbia mai riservato ai cittadini italiani e tarantini in particolare. Grazie a tutti!